Il capo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Cristo Gesù, venuto duemila anni fa, nella povertà della grotta, si rende presente nella storia ogni volta che la Chiesa celebra i suoi sacramenti. L'incarnazione è in funzione della Pasqua, del Signore. Dalla Pasqua nasce tutta la realtà nuova della vita della Chiesa. Dalla grotta allora parte una strada che conduce e riconduce sempre alla grotta attraverso i sacramenti. Il primo dei sacramenti, il battesimo, l'acqua, che fa rinascere alla vita nuova, alla vita della grazia, dove non solo veniamo immersi, ma possiamo sempre attingere la novità della vita. Quella novità della vita che ci viene data attraverso il sacramento della penitenza, perché al peccato di Adamo ed Eva, il Signore ha dato a noi di ritornare alle acque del battesimo con le lacrime. Come dicevano i pali, la penitenza è il battesimo con le lacrime, quel battesimo che ci ha fatti i figli di Dio e che attraverso il dono dello Spirito Santo, che è raffigurato dai pastori, viene a darci la capacità di vivere la vita nuova, cioè di testimoniare la realtà del Signore risorto. I pastori videro per primi il bambino Gesù, riconobbero in lui la potenza di Dio che era Dio e furono i primi ad annunciarlo a tutte le gente. Questa strada ci porta poi attraverso l'incarnazione concreta della vita a celebrare la Pasqua del Signore nella Eucaristia, dove siamo invitati a partecipare tutti, a spezzare il pane e a condividere con gli altri questa grazia, questo amore che Dio regala a ciascuno di noi. Per poterlo poi vivere concretamente nelle situazioni vocazionali della nostra vita, attraverso il matrimonio e attraverso la consagrazione Dio dell'Ordine Sacro. Perché si manifesta a questa realtà che rappresenta la storia, che è variegata, questa luce che è il cristianesimo, possa tornare e vivere sempre fino alla fine. Quando, ecco, prima di passare alla vita eterna, ancora una volta il Signore si fa presente con l'unzione degli ammalati, per poi poter ritornare ancora una volta a contemplare nell'eternità il volto santo di Dio, di quel Dio che si è fatto bambino e che vuole che ciascuno di noi viva nella realtà della vita eterna. Grazie.